Ciao a tutti, oggi video molto breve, sono la mezzanotte esatta e sto registrando il video sull'analisi della trimestrale di Microsoft appena uscita. Vi ricordo che alla fine del video aggiungerò la mia valutazione, quindi se siete interessati a sapere quanto secondo me si può guadagnare investendo in Minecraft da qua a 3 anni, guardate tutto il video. Parto col dirvi che ovviamente io sono azionista Microsoft, sono contento della trimestrale e a quanto sembra anche il mercato l'ha presa bene. Infatti Microsoft in After Hours, non so domani quando guarderete voi il video, però attualmente Microsoft è in salita all'incirca del 4%. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto uscire nella trimestrale appunto Microsoft. Mi sono segnato alcune cose che potrebbero interessarvi, ma andiamo a sviscerarle un po' all'interno della earnings presentation. Allora parto col dirvi che Microsoft aveva come attese 2,30 dollari per azione e ha fatto uscire 2,32, quindi ha leggermente battuto le aspettative. Per quanto riguarda invece i ricavi ha leggermente flopato, infatti ha fatto uscire i ricavi per 52 miliardi e 7 e le aspettative erano 53, quindi leggermente sotto le aspettative, ma direi che siamo lì. Le cose da tenere in considerazione è che sì, come vedete la crescita dei ricavi è stata praticamente solo del 2%, ma la cosa che mi interessa è il fatto che in realtà la crescita sarebbe del 7% escludendo il cambio. Perché come vi dicevo nella trimestrale di Netflix il cambio per multinazionali così grandi ha influito tantissimo e questa cosa qua inciderà nelle trimestrali future. Perché? Perché il dollaro si sta indebolendo tantissimo sull'euro e su in generale le altre valute e quindi tutti i ricavi che Microsoft farà in questo trimestre al di fuori degli Stati Uniti e al di fuori del dollaro ovviamente saranno di più. E quindi questo è a tenere in considerazione per le prossime valutazioni. Mi aspettavo sinceramente che la parte More Personal Computing, che è quella relativa ad Xbox e computer e periferiche fisiche generali di Microsoft calasse di più. In realtà il 16% è abbastanza normale considerando che nel 2021 siamo praticamente stati tutti bloccati a casa, quindi tutti hanno comprato computer, Xbox, in generale console. Quindi mi aspettavo semplicemente un calo maggiore, quindi sono veramente molto contento. Ovviamente la parte Cloud che tiene in considerazione di Azure è crescita al 24% che è tantissimo, veramente senza senso, quindi da quel lato lì sono super contento. Ovviamente l'operating margin è sempre altissimo, infatti Microsoft a mio avviso è una delle più belle aziende che si possa avere in portafoglio. Il net income anno su anno è diminuito del 4% che era super prevedibile, quindi nulla di nuovo sostanzialmente. E stessa cosa vale per Yearnings Per Share, che come vi dicevo, come dimostrato qua, a voluta costante sarebbero addirittura cresciuti. La cosa che secondo me è veramente fuori testa di Microsoft è la crescita impressionante della parte Cloud. Infatti il fattorato è aumentato anno su anno da 22 miliardi a 27 miliardi, con una crescita del 29% escludendo il cambio. Cioè capite che è veramente senza senso. E per chi non lo sapesse, vi ho fatto vedere qua, Microsoft Cloud include Azure e altri servizi cloud, il pacchetto Office, la parte commerciale di LinkedIn, Dynamics 365, sinceramente non so cosa sia. Però avete capito più o meno di cosa si parla. Hanno detto sostanzialmente che hanno ricomprato azioni per 4.6 miliardi di dollari e hanno distribuito dividendi per 5.1 miliardi. Quindi hanno restituito cash sotto forma di dividendi e share buyback per 9.7 miliardi di dollari, che è tantissimo. Stavo guardando che è leggermente aumentato il tax rate, che è del 19%, e in realtà fino a qualche trimestre fa era all'incirca del 17%, quindi questa è una cosa che non mi fa impazzire troppo. Ah, tra l'altro stavo vedendo adesso che il free cash flow è diminuito del 43% anno su anno, che però in realtà sarebbe diminuito solo del 16%, solo che 27 punti percentuali sono relativi a un pagamento di tasse relativo al TCGA, che deve essere, stavo leggendo, un taglio delle tasse relativo alle ricerche e sviluppo. Non so bene di cosa si tratti, ma devo andarmela a vedere. Un'altra cosa che mi ha fatto super piacere è vedere che LinkedIn è cresciuto del 14% currency constant, quindi benissimo. Qua come vi dicevo Xbox è decresciuto del 12%, 8% solamente senza cambio, quindi perfetto. Una cosa importantissima che volevo dirvi è che Satya Nadella, che sarebbe il CEO di Microsoft, ha sostanzialmente confermato che l'azienda nei prossimi anni si concentrerà per integrare ed utilizzare ChatGPT all'interno del pacchetto Office. Questo cosa vuol dire? Che sostanzialmente per le persone che non sono super pro nell'utilizzare i programmi come Excel, PowerPoint, Word e altri programmi di Microsoft, verranno aiutate appunto da ChatGPT, semplicemente magari chiedendo appunto all'intelligenza artificiale di aiutarli, magari creando formule o cose del genere. E ha anche confermato il fatto che Microsoft sta e continuerà ad investire in ChatGPT e qua la situazione cambia molto. Ma ora guardiamo la votazione tramite il mio algoritmo di Microsoft. Attualmente Microsoft ha una votazione di praticamente 8 su 10 per quanto riguarda il mio algoritmo, che per chi non lo sapesse utilizza 60 input, che sono ratio di bilancio come ROE, ROA, ROIC, poi utilizza i margini relativi al conto economico, oppure il current ratio, il quick ratio, in generale molti indicatori di bilancio, li mette insieme da una votazione dell'azienda. Come potete vedere attualmente Microsoft ha uno dei stati poterminali migliori che ci siano in circolazione, infatti ha un rating di 8.67 su 10 che è perfetto. Questo dovuto principalmente al fatto che ha una valanga di cash nelle case, infatti ha praticamente 108 miliardi di dollari in cassa e i debiti per un totale di 60 miliardi, di cui 3 solo a breve, quindi ha un bilancio perfetto. Come margine il conto economico ha tutto perfetto, infatti ha un ROE del 42%, ditemi voi, un net margin del 34%. Non so se vi rendete conto di che azienda stiamo analizzando. A mio avviso forse dopo Alphabet è la migliore azienda che ci sia in circolazione attualmente. Poi attualmente ha un price earning di 26, un price su free cash flow di 28 che sono abbastanza elevati, però quando un'azienda è top è giusto che abbia multiplito, a mio avviso. Il discounted cash flow che prevede una seconda crescita del free cash flow per i prossimi 3 anni all'incirca di un 16-17% l'anno ci dà una sottovalutazione del 6%, quindi attualmente Microsoft è correttamente valutata. Secondo i miei calcoli c'è un margin di sicurezza del 9% per quanto riguarda la votazione sui multipli. Ho stimato come vi dicevo prima una crescita del 16-17% per i prossimi 3 anni e questo ci porta ad avere un'utile operazione fra 3 anni all'incirca di 14 dollari. Ho stimato un PE di 23 che potrebbe essere corretto per Microsoft. Questo ci porta ad avere un prezzo operazione di 338 dollari tra 3 anni e di conseguenza tra dividendo e aumento di valore dell'azione un guadagno all'incirca del 44% che a mio avviso è veramente ottimo, soprattutto considerando che Microsoft è una delle migliori aziende che ci sia in circolazione. Ed è per questo che, come vi dicevo, io ho comprato e continuo a comprare questa azienda qua. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!